Tre arresti e numerose denunce durante i controlli a tappeto svolti dai carabinieri nel quartiere a Piave di Mestre il 18 novembre, il cui bilancio è stato reso pubblico oggi. Arrestato un pregiudicato trovato in possesso di 90 grammi circa di hashish e marijuana. È stato poi fermato un altro cittadino straniero con circa 10 grammi di hashish. Nove persone sono state segnalate alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Di quattro esercizi pubblici controllati, per due è scattata la sospensione amministrativa dell'attività per gravi mancanze in materia di legislazione del lavoro, alla quale si sono aggiunte multe per 30.000 euro. È stato poi denunciato per ricettazione un uomo trovato in possesso di un paio di auricolari oggetto di furto e un altro con una pistola a salve per possesso ingiustificato di armi. I militari hanno inoltre rintracciato un cittadino sul quale gravava un provvedimento di ripristino della custodia in carcere perché li tenuto responsabile di un'estorsione commessa nel 2018, mentre un secondo riscontro ha permesso di arrestare uno straniero colpito da provvedimento di cattura con l'accusa di furto commesso proprio amestre.